Oh io, tu sei mai stato punto da una pe? Sì, in faccia qua mentre ero in moto con l'HM, mannaggia non lo ciò di mettere in caso T'ha fatto male? All'inizio no Ma sai che io il punto, cioè quando mi ha punto, mi ha fatto male No no no, a me mi ha punto qua sul polpaccio tipo Io ho sentito pizzicare di brutto e poi gli ho detto di boom Anch'io ho sentito pizzicare un botto, ma zio mi ha fatto stramare a me E io ho dovuto togliere la roba, perché poi c'avevo su la mascherina tipo Mi si è incastrata tra la mascherina e il casco, no? Ma muore l'ape dopo, no? Sì, e ho dovuto togliere io il robo perché si è Per fortuna Anche alla Niki l'altro giorno, e l'altro giorno ciao magari Io dico sempre l'altro giorno, poi tipo nel 2012 Ti baghi tutto Eravamo in moto, siamo andati al Balcone d'Italia Che è bello, potresti andarci, però Balcone d'Italia Vedi giù la Svizzera praticamente Ok Però la strada fa cacare andare su, non è una roba per andare forte Ok vai, per goderti di panorama Minchia, stavamo ordinando tipo una piadina E la punta un'ape E' impazzita, poverina Gli è venuto un dito così Eh ma io in realtà non sono sicuro che fosse un ape o una vespa tipo O quelle, cioè non so le differenze io tra quelle cose lì Però il pungiglione dentro non ce l'avevo Vabbè ma è Cioè non è detto che si ficchi dici? Boh non lo so